Claudio Di Rigon, parliamo un attimo delle iniziative che ha intrapreso il sindacato quindi per restare al contatto col territorio, con i lavoratori e parlare anche delle difficoltà che si stanno vivendo in questo momento. Bene, questo è un momento topico di crisi dove i lavoratori e il sindacato devono fare le proprie proposte. Noi abbiamo messo in campo alcuni eventi che partendo da domani dove andiamo a parlare sul ruolo delle vertenze nel sindacato, tornando poi a lunedì prossimo dove invece parleremo più dello specifico del job ax, anzi in comune abbiamo definito il job non ax, che praticamente regole non per il lavoro, insomma, regole non per l'azione. Dopodiché ci sarà un altro evento a Catania, sempre il 26, sul TPL e l'evento ancora più importante che sarà quello del 30 sulla mancanza dei rinnovi contrattuali che purtroppo è un problema che ci affigge in questa nazione, 9 milioni sono senza un contratto. Quindi l'obiettivo di questi incontri, la mission qual è? La mission è quello che è far capire che il nostro sindacato vuole dare risposte, vuole essere parte attiva per far capire dove sono gli errori e dove si può migliorare questi regolamenti o queste mancanze. Questo sarà per noi la mission e questo è quello che vogliamo portare poi sui territori e spiegare qual è la proposta dell'UGL. Giancarlo Bergamo, un importante convegno per parlare di conciliazioni controvertenze, spiegaci nel dettaglio. Sì, è un'iniziativa che abbiamo pensato di organizzare proprio sulla base di una sentenza della Corte di Cassazione dell'aprile scorso, dove su un ricorso presentato dall'Inps nei confronti di un'azienda, credo del credito, la Corte ha stabilito sostanzialmente che i crediti, oggetto di transazione, che risultano anche come rapporto di lavoro, seppure alla fine naturale del rapporto, debbano essere soggetti a contribuzione previdenziale. Questo ovviamente apre uno scenario importante sul quale noi vogliamo per l'appunto discutere in questa iniziativa, dove abbiamo invitato due avvocati giuslavoristi, probabilmente la presenza di un funzionario della Direzione Territoriale del Lavoro di Milano e stiamo attendendo, ma dovrebbe essere presente anche un funzionario dell'Inps, proprio per mettere a confronto e vedere ognuno dai propri punti di vista quello che può cambiare nell'ambito delle nostre attività. In questo contesto quali saranno le difficoltà per il sindacato? Difficoltà le vedremo durante questo convegno, perché insomma tramite questi esperti cercheremo di capire come cambierà e come potrà cambiare eventualmente il nostro ruolo di sindacalisti. Chiaramente ci aspettiamo insomma di avere idee più chiare, perché questa sentenza, che devo dire per certi aspetti è passata anche un po' diciamo così sotto traccia, in realtà può aprire dei scenari nuovi anche per il sindacato. Sappiamo tutti che il sindacato è un soggetto molto importante quando assiste il lavoratore nella chiusura di rapporti di lavoro che tendono diciamo così a chiudere in maniera buon'aria quello che è avvenuto durante il rapporto di lavoro. Chiaramente questa sentenza, adesso vedremo di studiarla ancora con più attenzione, potrebbe aprire dei scenari anche diciamo così diversi da quelli di adesso, ovvero sia potrebbe capitare che il lavoratore magari a fronte di questo nuovo scenario, ma soprattutto l'azienda, vedersi che i costi diciamo così potrebbero aumentare, preferisce magari non chiudere in maniera buon'aria e quindi vedere se il lavoratore poi ricorre al giudice. Quindi questo potrebbe comportare anche al lavoratore un maggior onere in carico alle sue disponibilità. Noi ci aspichiamo che insomma nell'ambito di questa sentenza ci possono essere poi successivamente da parte degli istituti interessati o del Ministero del Lavoro per quanto riguarda le direzioni territoriali del lavoro, la stessa IMSS, dare delle indicazioni più precise per fare in modo che anche i nostri sindacalisti non si trovano in difficoltà nel dover assistere i lavoratori in questa iniziativa.